un minuto con padre pio dai luoghi del convento di san giovanni notondo da questo luogo dove padre pio spesso sostava ecco accanto a questa statua di gesù nell'orto del gesemani qui lui sostava spesso anche con i suoi figli spirituali sicuramente avrà avuto anche modo di fare lunghe passeggiate col suo breviario per la meditazione e la preghiera e sul pura pagani una suora che è morta in concetto di santità è stata aperta da poco la causa di beatificazione e canonizzazione che ci racconta questo episodio anzi sul pura allora ha raccontato a padre marcellino jasen saniro e nel 1997 sul pura racconta che aveva programmato un viaggio qui a san giovanni otondo voleva venire a trovare padre pio che aveva già incontrato tante volte ma prima di andare passò a trovare il parroco della sua città di cavezzale in provincia di vicenza don giancarlo stella che era ricoverato in ospedale per un tumore al polmone l'ammalato chiese a suor pura conoscendo di questo questo viaggio che doveva fare chiese di affidarlo alle preghiere di padre pio e lui disse proprio questo dite qualcosa a padre pio della mia malattia cara suor pura e così fece suor pura giunta a san giovanni rotondo insieme a qualche altra persona la fece raccomodare nel corridoio della portineria dove sarebbe da lì passato poi padre pio però suor pura racconta che lei era talmente immersa nei suoi pensieri che nel momento in cui padre pio giunse allora gli diede la mano da baciare gli espose qualche suo piccolo qualche sua piccola richiesta ma dimenticò totalmente la richiesta di don giancarlo stella allora prima di ecco chiudere questo breve colloquio quindi passare ad un'altra persona che era accanto fu proprio padre pio a dire a suor pura ma hai altro da dirmi a quel punto racconta suor pura io rimasi un po perplessa perché su quella domanda ma poi si riprese e gli chiese sì sì padre proprio il nostro parroco don giancarlo sta male ha un tumore e aspetta una vostra risposta e padre pio subito alza gli occhi così al cielo e poi dice ma se dio ha disposto che lui muoia lui da me che cosa vuole e subito sor pura ribatte dicendo padre che guarisca padre lui vuole guarire padre pio rimase un po in silenzio e poi disse beh lasciamo andare terminata questa frase saluto sor pura e andò via sor pura doveva ecco dare questa risposta a don giancarlo allora tornata a casa le altre consorelle le dissero che don giancarlo stella aveva lasciato l'ospedale stava benissimo e non aveva più bisogno dei medici ed erano ormai passati 30 anni lei nel 97 racconto questo episodio erano ormai passati 30 anni da quel fatto così particolarmente straordinario grazie a tutti